o la luce da resi di incontestabili vincitori di contest ben ritrovati dal vostro silver ci siamo siamo al termine del contest delle sponsorizzazioni in questo video scopriremo chi sarà stato il vincitore quale sarà stato il premio e dovrete pazientare poi per scoprire la seconda parte del premio perché manca ancora diciamo un particolare tecnico per poter mettere in atto la seconda parte del premio ma la parte materiale la scopriremo in questo video sarà un pensiero spero gradito per il vincitore ma innanzitutto prima di passare appunto agli esiti devo ringraziare tutti quanti coloro che hanno partecipato come spettatori coloro che hanno deciso di votare siete stati più di 50 e i 7 youtuber che hanno partecipato a questo contest io spero che vi siate divertiti come mi sono divertito io perché poi io me le invento sempre le cose ed è bello vedere la partecipazione delle persone come detto più di 50 votanti per questa seconda parte del contest è stato appunto un bel successo soprattutto per il sottoscritto che ha dovuto contare i voti e ci ha messo le ore mannaggia la buvazza le belle idee che vengono a me poi ne pago le conseguenze ma detto questo innanzitutto poi dobbiamo passare a ringraziare gli youtuber che hanno partecipato da shirinatensei mods killer deadly walkers che sono purtroppo usciti al primo turno e poi abbiamo ciriola charles destroy e scotli che hanno partecipato a questa seconda manche quella con le introduzioni in stile silveriano una cosa ne è emersa vi ho messo in difficoltà è vero è vero perché obiettivamente le intro silveriane sono del silver e quindi è stato bello rendersi conto che non è facile così scontato crearne soprattutto tenendo conto che ne ho creato io più di mille diverse vi garantisco che vi fa bollire il cervelletto creare questi sciogli lingua di introduzione però io mi ci diverto un casino e spero vi siate divertiti anche voi come detto appunto sono passati scotli just destroyed ciriola e charles che hanno fatto le loro quattro intro in nei loro quattro video e uno di loro avrà vinto questo fantastico premio il premio è contenuto in questa scatola che andremo a scoprire poi solo uno di voi ha detto di sapere cosa contiene questa scatola e soprattutto nessuno di voi è riuscito a individuare gli indizi che avevo seminato nello scorso video per capire su cosa sarebbe stato lo speciale non siete stati attenti non era poi così difficile poi fra l'altro la cosa bella che anche nei video ho seminato altri indizi e giochini del trova questa cosa vediamo vediamo se qualcuno di voi troverà le altre cosine che ho seminato in giro sapete io mi ci diverto allora passiamo agli esiti delle votazioni carta canta allora abbiamo al quarto posto just destroy con 68 voti totalizzati al terzo posto abbiamo scotli con 94 voti e quindi il premio finale se lo giocano charles e ciriola che vi dirò per un certo momento sono stati anche spalla a spalla ma a un certo punto uno dei due ha tirato una spallata da ko perché in questo consisteva a far votare farsi votare e quindi anche un pochino di vostra propaganda può aver servito per questa cosa quindi quindi celebrando con un grandissimo applauso che non ho registrato mannaggia la pupazza però fatevelo nel cervello io sento le vocine voi sentirete gli applausi a questo giro fatevi questo fantastico applauso e fatevi questo fantastico applauso per il secondo posizionato con 132 voti abbiamo charles e quindi possiamo decretare finalmente il vincitore e per farlo spariamo dei coriandoli guardate faccio un gioco di prestigio magnifico spariamo dei coriandoli stupendevoli ecco vabbè queste cose imbarazzanti prima o poi le dovrò smettere di fare ecco e si stavo dicendo dovrò smettere di farle ma non è questo il momento si è incantato il meccanismo grazie possiamo smetterla sta diventando imbarazzante grazie basta ok perfetto grazie basta stavo dicendo celebriamo il ciriola che avrà il diritto acquisito di scoprire anzi lo scoprirete tutti ma lui avrà il diritto di ricevere il contenuto di questa fantastica scatola lo so che siete curiosi dai la apro inutile che sto a cincinchiare cincinchiare cincischiare e parpasellare l'urso no non è il caso possiamo aprirla finalmente e scoprire che la scatola non contiene assolutamente nulla perché sono un gigione molti di voi staranno sfanculando il silver no in realtà il premio l'ho messo in tasca per fare questa scenetta si tratta di una fantastica card di un buon acquisto di cui l'entità lo saprà solo il ciriola esatto perché è suo sacrosanto diritto se vuole divulgare l'importo che il silver gli regala è un buon acquisto su amazon.it quindi potrai regalarti quel cacchio che vuoi da parte del silver è per quello che regalo sapevo che sarebbe stata cosa gradita perché puoi scegliere assolutamente quello che vuoi nel limite del possibile perché giustamente non ti sto elargendo la mia carta di credito non che tu ne abbia una gran convenienza se lo faccio però ecco per quanto riguarda la seconda parte del premio come detto dovrete pazientare ancora qualche giorno perché sarà legata ad una serie che sta per cominciare di cui non vi ho detto ancora nulla anche se in un video accennato che l'avrei fatta il gioco non è ancora uscito è quello il mezzo tecnico che mi manca quando quel gioco comincerà ci sarà una cosa che andrà dedicata al vincitore di questo contest e sarà secondo me è una cosa molto divertente sarà anche un ottimo spunto per continuare a fare pubblicità da parte del silver anche se obiettivamente il ciriola non ne ha di effettivo bisogno anzi ecco ci siamo capiti io lucio adores come sempre vi invito a dare un'occhiata sempre ai canali di cui vi parlo anche perché da adesso in poi come detto non ci sarà più l'effettivo che di al silver con quella di sponsorizzare i canali da adesso in poi sarò io a decidere se avrò sentore di un canale che ho voglia di dirvi che quel canale mi piaccia a prescindere dal successo che abbia dagli spettatori che abbia che siano tre o trenta milioni non mi interessa se vi interessa vi dirò qual è il canale che a me piace che mi ha colpito cosa mi piace di quel canale o viceversa cosa non mi piace di quel canale sentirò io il bisogno di parlarvene perché giustamente come detto il farsi tirare per la giacchetta e poi non trovare un riscontro da parte di chi ti viene a disturbare non è stata una cosa piacevole emerge molto senso molto senso di approfittazione senza dire nemmeno grazie ecco questa è una cosa che come sapete mi ha dato noia e mi ha fatto decidere di smettere con una pagina molto importante di questo canale di cui me ne dispiaccio perché secondo me per crescere tutti insieme c'è bisogno di spalleggiarsi tutti insieme e vedere che tanta gente lo fa proprio così a me non piace punto ma ho già trattato questo argomento e non voglio tediare ulteriormente con queste cose direi ragazzuoli che possiamo scrivere nei commenti tutti i complimenti di questo mondo a chi ha partecipato chi si è divertito e soprattutto a chi ha vinto anzi potete mandare gli insulti a chi ha vinto che si è portato a casa il premio alla facciazza di tutti gli altri ecco direi che potremmo aprire una nuova divertentissima rubrica insulti creativi nei confronti del ciriola perché lo so che lui è sportivo ed è una grandissima persona veramente perché persone così simpatiche a modo se ne trovano veramente poche sono sono contento come sarei stato contento se avessero se avesse vinto chiunque degli altri partecipanti perché a modo loro si sono dimostrate persone partecipi divertenti e anche creative appunto quindi il mio applauso va a tutti non batto le mani perché scena nel micro franzi lo faccio la fanno scroscio di applausi anzi lo faccio anche a due mani così è una cosa imbarazzante ma fino in fondo ecco io ho detto tutto spero di non aver tralasciato nulla sottra lasciato qualcosa sono affaracci vostri che non lo vedete a scoprire mai io vi rimando alla prossima e con gioia vi saluto soprattutto contento di aver spento il meccanismo che sparava i coriandoli dai